Compleanno speciale per il Torrita Blues. Il festival arrivato alla 34esima edizione accenderà il cuore di Torrita di Siena, dove si svolgerà dal 23 al 25 giugno. A presentare il cartellone il presidente e il direttore artistico Luca Romani. Ma diciamo che la ripartenza è veramente alla grande, perché avremo intanto, si inizia con una serata di solidarietà, perché ci sarà la classica scena in piazza con ospiti dei profi cugraini che sono in zona indiocesi. Oltre a questo ci saranno anche le semifinali nazionali dell'Italian Blues Union. Si passa poi al venerdì dove abbiamo come ospite un grande nome, Alex Britti, preceduto anche da una band italiana, non lo sono lombardi, Cech Franceschetti e The Stompers. Sarà anche questa una piccola chicca che aprirà il concerto di venerdì. Un festival longevo che fa capire come la Toscana abbia in questo settore uno dei suoi asset fondamentali, perché la cultura è impegno, lavoro, vitalità dei territori e senso di appartenenza. È una linea di sviluppo che vorremmo sempre più con la Commissione e con la consigliera Rosignoli, che è disurrita, ma appartiene alla Commissione Cultura, vorremmo far diventare davvero un mantra, un convincimento che tutti i toscani e le toscane debbono avere. La cultura rende migliore l'aria che respiriamo.